E finalmente campionato con il Teramo che scenderà in campo a Bolzano, allo Stadio Druso per affrontare il Sud Tirol. Di certo non un match facile per i Biancorossi allenati da Zichella, questa prima per l'appunto di campionato contro una squadra tosta fisica che ha messo in difficoltà anche nella passata stagione i Biancorossi e di cui Zichella parla così. Ma guarda, non lo nascondo, ho parlato anche con un amico allenatore del Frosinone, eravamo insieme colleghi al Torino e me ne ha parlato benissimo, però a me non piace venire qua e dire ah incontriamo, noi siamo una buona squadra, noi siamo una squadra giovane, una squadra che ha voglia di e dico sempre, questi ragazzi hanno voglia di scalare la categoria, essendo giovani loro pensano giustamente di essere di passaggio in Lega Pro quindi faranno di tutto in allenamento e in partita da andare forte per poter poi prossimo anno andare in una categoria superiore. Quindi questo mi lascia molto tranquillo e sereno. Zichella ha dato alcune indicazioni non di formazione ma di quelli che non partiranno per Bolzano, non ci sarà di Renzo perché squalificato non ci saranno Amadio e Ferretti per una sorta di regolamento interno, visto che Amadio è stato da poco reintegrato ma negli ultimi due mesi praticamente non ha quasi mai lavorato con il resto della squadra, non ci sarà. Però neanche il capitano Ivan Speranza ha detto dell'allenatore per una condizione fisica non ancora ottimale dopo alcuni problemi quindi il capitano del Teramo non verrà convocato. Ma sentiamo. Per correttezza e coerenza domani né Ferretti né Amadio vengono convocati perché è due mesi che non fanno parte del progetto e quindi si sono allenati e non si sono allenati insieme a noi. Quindi loro staranno fuori perché altrimenti dovrei portare loro a discapoli di altri che è due mesi che si allenano. Da martedì si inizia e si va forte. Non verrà di Renzo perché è squalificato, speranza perché è in via di guarigione è stato fermo dieci giorni, ha ripreso ieri ma non è ancora in condizione. Io penso che mi dovete dare almeno l'1% che l'allenatore conta, il gestore conta nel formare il gruppo. Quindi ci sono delle regole. Mantenere una certa coerenza con i giovani, una certa coerenza con i vecchi, mi spiego meglio. Sgridare solo quelli da vent'anni in giù non forma un gruppo. Sgridare tutti uguali dai 34 in giù forma un gruppo. Uno non si allena per dieci allenamenti, per dieci giornate e poi ne fa una e mezza e non sta tanto bene, non è convocato. Grazie.